buongiorno consiglieri seduta di consiglio di prosecuzione del 2 dicembre 2020 appello teresi aiello altadonna cavaliere di gesù presente figuccia lo sardo consiglio lo sardo è assente lucido presente palazzo presente stabile presente come sempre presente anch'io presente anch'io presente anch'io 9 presenti un'assente giusto 9 presenti un'assente grazie segretario visto il numero legale la seduta è aperta buongiorno consiglieri buongiorno benvenuto buongiorno siamo in prosecuzione intanto nominiamo gli scrutatori il consigliere palazzo la consigliera cavaliere e la consigliera di gesù grazie grazie a favore chi è contrario e chi si astiene approvato all'unanimità io come già avevo comunicato un istante prima ieri avevo un sopralluogo ma in merito al ho dovuto precedere la seduta anche se è mancato il numero legale ho dovuto rinviare questo sopralluogo di ieri per cui questa mattina io dovrò abbandonare l'aula come già avevo comunicato per motivi istituzionali che c'è un solo luogo grazie consiglieri e buona giornata presidente è andato via già? sì sì è andato via allora chi è il mio presidente? il consiglio è lo sardo? consiglio è lo sardo? sì eccomi eccomi buongiorno 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 date le assenze forzate dal presidente al vicepresidente assumo io come di consueto ormai la presidenza la conduzione d'aula oggi è una seduta di prosecuzione quindi non ci sono comunicazioni e quindi non mi interessa che io vorrei intervenire l'ordine dei lavori ordine dei lavori senz'altro prego grazie presidente io non ricordo l'ordine che nella comprensione i gruppi mi ricordo purtroppo non la sento non la sento palazzo può spegnere l'audio ok ora va un po' meglio dicevo io non ricordo a memoria l'ordine che ci siamo dati in conferenza di capigruppo per il mese di dicembre volevo chiedere se il consiglio fosse d'accordo però il prelievo del punto 69 per evitare che poi passi il Natale le cose di Natale le facciamo a gennaio come il comune di Plermo noi invece vorremmo fare a Natale le cose di Natale e a gennaio le cose di gennaio grazie presidente sicuramente quindi se mi fate vedere gentilmente l'ordine del giorno così andiamo a vedere questo punto 69 se non ho capito male sì mi pare di ricordare che è il 69 69 69 no campagna di prevenzione e sensibilizzazione in ricordo di Agostino questo 69 quindi non c'entra niente sì 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 no è questo ah è questo mi pare che sia questo è per l'albero di Natale a Piazza Noce sostanzialmente questa campagna di prevenzione e sensibilizzazione no un attimo solo è appunto è appunto non è quella sull'albero di Natale a Piazza Noce io non lo vedo tutto l'ordine del giorno nemmeno io lo vedo siccome erano concentrati sul punto 69 era andata pure in commissione è il punto 58 grazie installazione alberi di Natale rotatoria Piazza Principe di Camporreale Piazza Noce Piazza di Camporreale qua c'è scritto no installazione alberi di Natale rotatoria Piazza Principe di Camporreale io non vorrei che non fosse stato messo all'ordine del giorno allora questa è una questione che dovrò vedere con la presidenza allora chiedo scusa si ricorda si ricorda l'oggetto un attimo soltanto che lo verifico subito Presidente andiamo avanti andiamo avanti con i lavori che io intanto recupero la cosa scusate se vi ho fatto perdere tempo intanto va bene allora io designo gli scrutatori affinché il consiglio possa nominarli e allora abbiamo Presidente sono già stati nominati ah infatti ah no scusate posso sapere chi Cavaliere di Gesù Palazzo Palazzo Cavaliere di Gesù va bene grazie allora quindi allora possiamo andare avanti con i lavori con i lavori qualcuno ha qualche richiesta particolare affinché si posta rilevare il punto forse si devono approvare ancora i verbali che non è che percire ci sono i verbali da approvare credo sì infatti ci sono i verbali da approvare come prima tempimento dobbiamo approvare i verbali inseriti all'ordine del giorno e allora prego l'assistente la segretaria di mettere in votazione tutti i verbali del mese di novembre quindi andiamo per ordine grazie grazie Grazie. Mi sentite? Sì. Si pone in votazione l'approvazione del verbale del 3 novembre. Chi è contrario, chi si astiene, il consiglio approva all'unanimità tra i presenti. Si pone in votazione l'approvazione del verbale del 4 novembre. Chi è contrario, chi si astiene, tutti i favorevoli, consiglio approva. Si pone in votazione l'approvazione del verbale del 5 novembre. Chi è contrario, chi si astiene, consiglio approva all'unanimità tra i presenti. Si pone in votazione l'approvazione del verbale del 6 novembre. Chi è contrario all'approvazione del 6 novembre, chi si astiene, tutti i favorevoli all'unanimità. Il consiglio approva. Si pone in votazione l'approvazione del verbale del 9 novembre. Chi è contrario, chi si astiene, tutti i favorevoli, consiglio approva. Si pone in votazione l'approvazione del verbale del 10 novembre. Chi è contrario, chi si astiene, tutti i favorevoli, consiglio approva. Si pone in votazione l'approvazione del verbale del 11 novembre. Chi è contrario, chi si astiene, tutti i favorevoli, consiglio approva. Si pone in votazione l'approvazione del verbale del 12 novembre. Chi è contrario, chi si astiene, tutti i favorevoli, consiglio approva. Si pone in votazione l'approvazione del verbale del 13 novembre. Chi è contrario, chi si astiene, tutti i favorevoli, consiglio approva. Si pone in votazione l'approvazione del verbale del 16 novembre. Chi è contrario, chi si astiene, tutti i favorevoli, consiglio approva. Si pone in votazione l'approvazione del verbale del 17 novembre. Chi è contrario, chi si astiene, tutti i favorevoli, consiglio approva. Si pone in votazione l'approvazione del verbale del 18 novembre. Chi è contrario, chi si astiene, tutti i favorevoli, consiglio approva. Si pone in votazione l'approvazione del verbale del 19 novembre. Chi è contrario, chi si astiene, tutti i favorevoli, consiglio approva. Si pone in votazione l'approvazione del verbale del 20 novembre. Chi è contrario, chi si astiene, tutti favorevoli, il Consiglio approva. Si pone in votazione l'approvazione al verbale del 23 novembre. Chi è contrario, chi si astiene, tutti favorevoli, il Consiglio approva. Si pone in votazione l'approvazione al verbale del 24 novembre. Chi è contrario, chi si astiene, tutti favorevoli, il Consiglio approva. Si pone in votazione l'approvazione al verbale del 25 novembre. Chi è contrario, chi si astiene, tutti favorevoli, il Consiglio approva. Sono stati approvati i verbali. Tutti approvati allora fino al giorno 25? 25. 25, perfetto. E abbiamo evaso questo adempimento. Chiaramente mi costringerà poi, dato che c'è la firma digitale, un'altra perdita di tempo. Ringrazio il Presidente e il Vicepresidente di tutto questo. Perfetto. Che almeno saranno 16 firme da apporre in forma digitale. Perfetto. Comunque, andiamo avanti. Allora, nel frattempo il Consiglio Altadonna ha risolto, oppure ha bisogno ancora di tempo, se ci sono mozioni passiamo agli atti ispettivi, se non ha raggiunto. No, Presidente, ho verificato che a tutto pare non è stato inserito all'ordine del giorno, quindi poi chiederò al Presidente di fare un'integrazione, quindi in questo momento non ho, diciamo, preferenze sui periodi. Eventualmente c'è la prossima festività grande che a Pasqua, potremmo inserirla a Pasqua, non c'è problema. Esattamente. Va bene, potremmo discutere. Vabbè, ma dico che eventualmente lo facciamo in linea con l'amministrazione centrale. Sì, sicuramente. Così ci allineiamo tutti. Perfetto. E allora, ripeto quello che avevo detto in precedenza, se c'è richiesta di prelievo, oppure se desidero sapere se ci sono mozioni all'ordine del giorno. Sì, sì, tre, tre, il punto 11, 12 e 13. 11, 12 e 13. Posso sapere l'oggetto? Posso sapere l'oggetto? Della mozione numero 11. Di apertura anno scolastico, conferenza di servizio. Possiamo ritirarla. Se è affirma mia, possiamo ritirarla. Affirma il consiglio d'alta donna. Ma come mai c'è questa mozione ancora all'ordine del giorno? Che è datata? 9 agosto 2020. Allora, appunto, facciamo riferimento al discorso di poc'anzi, insomma. Magari si parlava forse dell'anno 2021-2022, supponiamo. No, no, era stata fatta, Presidente, era stata fatta in ottica della commissione scuola. Ci siamo? Ah, ho capito, ho capito. Possiamo ritenerla ritirata. Perfetto. Anzi, a proposito di commissione speciale, avevo chiesto agli uffici di approfondire, diciamo, quando è stata istituita la commissione speciale mobilità e traffico, a quanto pare è ad agosto, quindi ancora abbiamo un bel po' di tempo per rinnovarla. Fino a febbraio, sì. Come? Fino a febbraio, sei mesi, no? Fino a febbraio, esattamente. Quindi, grazie per la ricerca, signora Cannizzaro, sicuramente l'artefice sarà stata lei. Sicuramente. Perfetto. E allora, la mozione numero 11 viene ritirata dal consiglio Altanonna, se non ho capito male, giusto? Sì, sì. Perfetto. Perfetto, quindi ritirata la mozione di cui è al punto 11, la mozione numero 12. Qual è? Oggetto, oggetto? Oggetto inizio per la manutenzione degli ascensori degli istituti scolastici e la quinta cicoscrizione. Questa era anche in funzione della commissione scuola, supponete? No, no, questa trattiamo, la Presidente. Gli ascensori sono fermi, quindi è importante trattarla, secondo me. Va bene. In ordine cronologico, se c'è, la trattiamo subito, ci mancherebbe. Allora, diamo lettura della mozione numero 12 a firma del consigliere Altanonna. Prego, segretario. La vedete? No. Aspetta. Allora, un attimino soltanto. Adesso? Perfetto, perfetto. Oggetto, conferenza programmatica di servizio per la manutenzione degli ascensori negli istituti scolastici e la quinta cicoscrizione. Premesso che molti degli istituti scolastici e la quinta cicoscrizione risultano di proprietà del comune di Palermo, al quale è affidata la cura e la manutenzione, considerato che molti dei suddetti impianti non risultano funzionanti, alcuni dal tempo della loro installazione, attendo addirittura il collaudo, tenuto conto dell'alto numero di alunni disabili che frequentano le scuole e delle molteplici altre necessità che ha una scuola per utilizzare tra l'impianto, si chiede al consiglio della quinta cicoscrizione di adottare un atto deliberativo finalizzato ad impegnare l'assessorato alla partecipazione e gli uffici competenti alla realizzazione di quante esposte in narrativa. Palermo 19 agosto 2020, il consigliere proponente Altadonna, Salvatore. Al quale cediamo la parola se vuole intervenire. Presidente, credo di non avere una parola in più, è una problematica che noi periodicamente, lei lo ricorda benissimo, appunto trattiamo ormai da anni, non si parla né di mesi né di giorni, ma da anni e credo anche un po' prima del mio ingresso in consiglio, quindi diciamo da consigliature che si discute la soluzione di questo problema. Infatti parliamo di ascensori che ancora attendono il collaudo e che quasi diciamo a volte non esistono più, faccio l'esempio della Rita Levi-Montalcini, il plesso Grazia dell'Edda, ha un ascensore che ormai ha le porte divelte, è diventato una discarica e ancora attende il collaudo. Quindi credo che ci sia poco da aggiungere, Presidente. Grazie. Indubbiamente, va bene. Mi ricordo che questo appunto è un annoso problema che ancora oggi si manifesta. Chiaramente se il consigliata donna volesse aggiungere in maniera specifica quali siano appunto questi ascensori che necessitano appunto di un collaudo, se al corrente oppure lasciamo in maniera generale? No, no, è al netto del fatto che il Comune conosce assolutamente come si dice, l'anagrafica di questi ascensori, ma sicuramente quello della Rita Levi-Montalcini, sicuramente quello della Manzoni Impastato, sicuramente quello della De Amicis, nonostante diciamo alcuni, io appunto abbia avuto notizia diretta da queste scuole, tante scuole sicuramente hanno fatto nel corso degli anni le segnalazioni e magari non sappiamo che, quindi non vorrei escludere alcune scuole. Allora potremmo richiedere con un emendamento con il quale richiediamo il piano del Comune in merito al collaudo di questi ascensori, quali sono gli adempimenti che stanno prendendo in merito a questa vicenda, a questo annoso problema, a questa problematica che sicuramente è molto importante per gli studenti, per gli alunni, specialmente per le persone disabili, gli alunni disabili, che sicuramente è un problema che sono da più presto. Quest'anno in particolare, dico anche per il personale, perché quest'anno in particolare, durante l'estate, il personale ha dovuto uscire, viste le norme Covid, svuotare le classi quindi dagli armadi, dalle lavagne, hanno dovuto smontare interi piani. Questi armadi sono stati scesi dai collaboratori scolastici ovviamente a mano. Anche il cambio dei banchi, con l'arrivo dei banchi monoposto nuovi, sono stati scesi tutti manualmente. Tenuto conto che molti degli ascensori delle scuole erano stati costruiti con ampiezza, con larghezza, diciamo con dimensioni che riguardavano sia l'accesso ai disabili, sia la possibilità anche di montare carichi. Questo ha comportato un disagio, diciamo notevole, proprio all'organizzazione delle scuole quest'anno. Io sono d'accordo a chiedere... Lei potrebbe scrivere un emendamento appunto con il quale si richiede questo piano di intervento istilato, se è stato istilato dal comune per quanto riguarda gli istituti scolastici se mi date qualche istante lo scrivo in chat. E quali siano magari le priorità? Certo. Allora, se mi date qualche istante scrivo in chat l'emendamento. Perfetto, a facoltà. Presidente, intanto la informo che bisognerebbe sostituire la consigliera Cavaliere come scrutatrice. Sì, poc'anzi appunto leggevo che abbandonava l'aula. Quindi approfittiamo della breve pausa per sostituire la consigliera Cavaliere con il consigliere Palazzo. Credo che non sia stato nominato, giusto? Consigliere Palazzo attualmente... Allora, stabile. Con il consigliere stabile. Grazie comunque. Sostituiamo sostituiamo un componente dell'albo degli scrutatori ovvero consigliera Cavaliere col consigliere stabile. Chi è contrario, chi si astiene, tutti favorevoli, avvenuta la sostituzione. Il consigliere stabile diventa è stato nominato scrutatore. Ho inserito l'emendamento in chat, presidente. Perfetto, leggiamolo. Ecco, vediamo se riusciamo a leggere. Leggo io? Sì, prego. Emendamento aggiuntivo. Richiedere agli uffici competenti il piano di manutenzione adottato dall'amministrazione al fine di verificare l'efficienza delle aziende appaltatrici di retta manutenzione. Un istante che lo copio. Sì. Perché il servizio è esternalizzato, viene fatto un bando ed sono ditte esterne che si occupano di questa manutenzione. Sì. Semplicemente dopo l'amministrazione quali siano le priorità? Sì, lo aggiungerei signora Cuccione. Dopo dall'amministrazione quali siano le priorità? Allora, richiedere agli uffici del piano di manutenzione adottato dall'amministrazione. Quindi, dopo dall'amministrazione aggiungere e quali siano le priorità? Grazie. 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 Per cui, l'amendamento aggiuntivo richiede agli uffici competenti il piano di manutenzione adottato dall'amministrazione e quali siano le priorità al fine di verificare l'efficienza delle aziende appaltatrici di dette manutenzioni. Di dette manutenzioni. Perfetto. Perfetto. Discussione aperta sul sull'amendamento. Ci sono interventi? Perfetto. Quindi, credo, sia condiviso da tutti. Allora, l'amendamento aggiuntivo richiede agli uffici competenti il piano di manutenzione adottato dall'amministrazione e quali siano le priorità al fine di verificare l'efficienza delle aziende appaltatrici di detta manutenzione. Allora, votiamo subito questo emendamento affirma il consigliere Altadonna che è contrario chi si astiene tutti i favorevoli del consiglio approva all'unanimità. Dopodiché passiamo allora alla votazione della proposta testè emendata chi è contrario chi si astiene tutti i favorevoli il consiglio approva all'unanimità tra i presenti. Benissimo, approvata quindi la mozione di cui è al punto 12. Sì. Andiamo avanti, mozione numero 13 allora c'è. Sì, un attimo soltanto. Se mi leggete l'oggetto nel frattempo si vede? Sì. Sì. Pulizia urgente caditoie nei quartieri Borgo Nuovo e pasto di Rigano premesso che con la pioggia autunnale si ripropone il problema delle strade allagate considerato che la pioggia non riesce a defluire nei tombini e nelle caditoie lungo la strada considerato che le piogge di questi giorni hanno causato notevoli danni ad abitazioni attività commerciali alla viabilità e non per ultimi ai cittadini considerato che nei quartieri Borgo Nuovo e Passo di Rigano per la conformazione del terreno circostante si crea un vero e proprio fiume in piena che impedisce totalmente il passaggio di vetture e pedoni causando tra l'altro ingenti danni e mette in serio pericolo incolumità dei residenti considerato che il numero dei tombini e delle caditoie presenti lunghe le vie sembrerebbero non solo insufficienti ma mancanti altresì di una regolare pulizia e manutenzione considerato che specialmente le caditoie oscute da fogliame da immondizia non raccolta e soprattutto dalle asfaltature del manto stradale che ne riducono la bocca al punto che bastano poche foglie e pezzi di carta a renderle inefficaci il consiglio della quinta circoscrizione impegna il sindaco l'amministrazione comunale e le aziende competenti a mettere in atto tutte le azioni necessarie ad evitare ripetersi di gravi situazioni dovute alla mancata manutenzione ordinaria e al ripristino delle caditoie ormai in alcuni casi ridotte ai minimi termini specialmente nei quartieri Borgo Nuovo e Pasto di Rigano che sono più soggetti ad allagamenti in seguito ad eventi atmosferici e caduta di fogliame filmato il consigliere Umberto Losardo e il consigliere Andrea Iello perfetto e con questa accoppiata è blindato l'atto mamma mia però è tanto blindato che non è in aula perfetto e allora chiaramente in narrativa mi pare che sia abbastanza chiaro diciamo la problematica appunto messa in evidenza per quanto riguarda i tombini le caditoie appunto presenti specialmente nei quartieri Borgo Nuovo e Pasto di Rigano appunto dicevo che non solo risultano insufficienti ma molti molti sono anche mal ridotto e bastano poche foglie appunto per ostruire la bocca delle caditoie e quindi non consentire di defluire specialmente appunto delle acque piovane per la conformazione appunto del territorio circostante in questi quartieri abbiamo visto tutti le conseguenze in seguito a pioggia abbondante cosa sia accaduto cosa cosa sia successo mi sembra opportuno fondamentale che l'amministrazione si prenda carica al più presto di quanto c'è in oggetto in questa in questa mozione prima che succedano danni ancora più gravi di quelli che sono accaduti in precedenza ricordo la la pioggia abbondante caduta il giorno del festino appunto tutti ricordiamo cosa è accaduto probabilmente fiumi fiumi in piena scorrevano per le strade del quartiere e borgo nuovo e passo musicale prego consiglieri interventi appunto sulla mozione se ce ne sono hanno facoltà su prenotazione chiaramente si prenota qualcuno è stabile consigliere stabile prego no è uscito il consigliere stabile ah è uscito ah mi scusi non avevo compreso vabbè comunque oggi è prosecuzione quindi siamo ancora in numero legale viene a mancare nuovamente l'occupatore allora io vedo però in questo momento tre soltanto tre soltanto uno due tre siamo presenti siamo presenti in tre quindi non ci sono le condizioni per poter no il consiglio non è tornato è tornato prego 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 è un numero un numero legale prima prima delle sostituire lo sfruttatore sì allora siamo allora siamo in tre quindi possiamo sostituire vedo che siamo in tre siamo in tre di conseguenza non ci sono più le condizioni per poter proseguire con i lavori d'aula e purtroppo appunto sono costretto a chiudere la seduta la seduta è tolta buona giornata buona giornata a tutti arrivederci 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 c'è ancora la registrazione è nato quindi si